messaggio di marica moretto 18 giugno 2021 voce marina tratto dalle comunicazioni sottili sei qui ma non sei di qui è comprensibile il tuo disagio ma tu non sei questo staccati dalla tormenta e torna da te ritorna nella pace nelle tue profondità che sanno riconoscere la strada al di là delle emozioni torna al tuo centro non lasciarti condizionare tu sai cosa fare la tormenta è una prova per le tue radici per il tuo equilibrio qui in questa veste la materia non è un nemico osservala con il cuore e fonditi con essa guarisci ciò che tocchi con la luce della purezza e della verità donati ed espandi le tue conoscenze diffondi lettere e poi torna da te al tuo interno dove ti ami e ti nutri dove nessuna interferenza può nuocerti perché tu sei osserva il buio senza più paura è stato vinto dentro di te ora non ti appartiene perché lo ami questo mondo è la tua occasione e tu sei la sua possibilità unitevi cielo e terra unitevi con amore questo mondo cresce meravigliosamente cresce rimani qui per ora e sorridi marica moretto voce marina 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 Grazie a tutti